Se siete alla ricerca di un sistema di aggregazione di reti mobile fisse, questo è quello che fa per voi. Bonding Revolution è un sistema per la connettività internet con connessioni aggregate. Rispetto a una connessione singola, il vantaggio di aggregare le reti sta in una maggiore sicurezza, dato che più reti possono garantire una connettività veloce e stabile, anche in condizioni critiche come ad esempio nei grandi eventi dove un gran numero di persone utilizzano i loro telefonini. Il sistema è preconfigurato lato router e server, non necessita di alcuna conoscenza informatica ed è pronto all'uso. Bonding Revolution è composto da due sistemi, 5G e 4G. Il sistema 5G è composto da tre antenne Zyxel cablate e installate su uno stativo fornito nel kit. Il sistema 4G è composto da quattro antenne MikroTik in una box preconfigurate e installate. Il cuore dei sistemi 5G e 4G Bonding Revolution è il router, preconfigurato con protocollo bonding di ultima versione e ottimizzato per il live, creare connettività dove non c'è, fare un backup di una linea fissa e molte altre applicazioni. I classici protocolli di streaming RTMP che permettono di effettuare dei live streaming sui maggiori social network sono assolutamente compatibili con tutto il sistema. Inoltre il sistema Bonding Revolution permette di utilizzare lo streaming SRT a bassa latenza, su rete mobile e sì perché veniamo pubblicati su internet con un indirizzo IP pubblico e fisso che non cambia mai. Qui potete vedere un esempio di trasmissione SRT a bassa latenza. Su questo computer stiamo effettuando uno streaming SRT a bassa latenza, in trasmissione qualsiasi rete compatibile e in questo caso stiamo utilizzando questo router mobile. E da questo lato potete vedere la ricezione sul sistema Bonding Revolution a bassissima latenza. La ricezione di un segnale SRT non è possibile su rete mobile, è possibile solo utilizzando il sistema Bonding Revolution. Il cuore di tutto il sistema è il router. All'interno di questo flycase con altre apparecchiature fornite e preinstallate, non dovrete fare nessuna fatica per configurare il sistema. Le antenne vengono alimentate da un power box micro-tick. Basterà un unico cavo di rete di lunghezza massima di 15 metri fornito nel kit per alimentare tutte le antenne e trasportare i dati. Il server virtuale, detto anche VPS, si trova in una CDN italiana. È preconfigurato con connessione gigabit senza limiti di traffico e IP pubblico fisso, raggiungibile sia in trasmissione che in ricezione. In ogni antenna andrà installata una SIM card. Le compagnie telefoniche consigliate sul territorio italiano sono Iliad, Wind e Team. Nel caso utilizzate il sistema 4G, che prevede quattro antenne, vi consiglio di installare due SIM dello stesso gestore telefonico e le altre due rimanenti di un'altra compagnia. Non vi preoccupate per la prima accensione, è compresa l'assistenza tramite Team Viewer o video call, oppure una semplice telefonata. Con Bonding Revolution la connettività mobile non sarà più un problema.